Per un giorno la corte del principe invitò una danzatrice accompagnata dai suoi musicisti. Ella fu presentata alla corte, poi danza davanti al principe al suono del liuto, del flauto e della chitarra. Ella danza la danza delle stelle e quella dell'universo. Poi, ella danza la danza dei fiori che vorticano nel vento. E il principe ne rimane affascinato. Egli la prega di avvicinarsi. Ella si dirige verso il trono e si inchina davanti a lui. E il principe domanda. Bella donna, figlia della grazia e della gioia, da dove viene la tua arte? Come puoi tu dominare la terra e l'aria nei tuoi passi, l'acqua e il fuoco nel tuo ritmo? La danzatrice si inchina di nuovo davanti al principe e dice «Vostra altezza, io non saprei rispondervi. Ma so che l'anima del filosofo veglia nella sua testa?» L'anima del poeta vola nel suo cuore. L'anima del cantante vibra nella sua gola. Ma l'anima della danzatrice vive in tutto il suo corpo. Gibran Kali, Gibran. Grazie.